eccoci qui con un nuovo video dove vi faccio vedere una piccola guida di aliexpress allora scusate è un po lento il cellulare anche perché è in carica quindi capitolo poverino in sofferenza allora questa è quando si apre io ho l'app però si può usare anche il sito queste sono in alto vedete le news che scorrono come qualsiasi altro sito sotto abbiamo le categorie dove abbiamo i coin e i coupon i convertitori di valuta e tutte le altre categorie vedete donna uomo matrimonio eventi e così via vi faccio vedere tutte e altre senza immagini poi abbiamo i marchi le offerte lampo i super affari le varie collezioni proprio come se fosse anche su amazon ecco per chi ha in mente amazon è fatto più o meno simile e faccio vedere un po velocemente poi c'è il potrebbe piacervi ciò che magari è inerente poi vediamo più nel dettaglio allora c'è il cerca che dovete mettere per forza tutte parole in inglese quindi abbiamo anche per esempio stationery e vi trova tutto ciò che è legato sì scusato scritto stay or any stationary scusate ma ecco vedete poi abbiamo il core code se ce li avete sotto mano e il carrello qui invece abbiamo il tipico menu di qualsiasi altro che siamo il centro assistenza le impostazioni coupon gli inviti e queste cose qui quindi direi che questo è proprio l'inizio cioè l'introduzione qui su coins e coupon potete vedere potete provare a guadagnare delle monete di queste monete che permettono quindi vedete ecco mi ha fatto oggi ho guadagnato un coin che mi si è aggiunto posso poi ottenere se ne ho 5 cioè su dieci coin posso provare a ottenerne degli altri qui sotto ci sono altri coupon il convertito di valuta è molto utile perché qui si parla di dollari americ di dollari canadesi rispetto all'euro però si può fare tutti i tutti i cambi di voluta che si vogliono allora ora vi faccio vedere più nel dettaglio come comprare per esempio vi faccio vedere dalla mia lista desideri queste sono le cose che ho nella mia lista come vedete c'è il prezzo scritto in rosso sotto c'è la scritta in grigio barrata quindi stato scontato infatti vi fa vedere che c'è il meno 44 per cento da telefono quindi in realtà solo sull'app avete questo sconto mentre sul sito non lo avreste sul sito sul computer vedete questa è per esempio la mia wish list adesso vi faccio vedere per esempio questo bellissimo clear stamp ecco allora col cuore indica il fatto che è stata messa nella wish list qui c'è tutta la descrizione ovviamente tenete conto che il sito dovrebbe essere in inglese io gli imposto la lingua italiana giusto per non perdermi un attimo tutta la descrizione però a volte è veramente tradotto male vedete c'è scritto il prezzo in rosso c'è sotto il riscontro gli ordini sono stati fatti e quanti sono nella lista dei desideri vedete in dieci anno l'hanno messo nella lista dei desideri gli ordini sono stati fatti sono 8 dice che la spedizione è gratuita dovete leggere bene questa cosa perché se la spedizione può non essere gratuita quasi mai non è gratuita però non si sa mai io vi consiglio sempre di guardarlo vedete vi da tutto il peso del pacco la dimensione quanto può essere spedito già spedito in sette in un massimo di sette giorni se non spediscono e troppo potete già richiedere il rimborso vedete però in realtà voi potete scegliere io scelgo sempre quella gratuita a meno che loro non mi obbligano a pagarla ecco normalmente non la pago cioè lo cerco cerco la stessa cosa da qualcun altro non mi fa pagare però in realtà se voi lo volete anche in meno lo pagate e pagate di più e ci siete vedete ovviamente i prezzi sono molto alti non spaventatevi perché comunque arrivano dalla cina quindi è normale che per esempio un dhl vi faccia pagare parecchio perché in tre sette giorni vi fa avere tutto però è pur sempre dalla cina la spedizione gratuita è 15 34 giorni anche se in realtà io vi dico ci mette anche quasi due mesi tranquillamente acquista ora aggiunge al carrello i feedback recenti la descrizione della merce questo è importante leggetelo bene vedete c'è scritto tutto vi fa vedere cos'altro magari al negoziante se vi interessa la protezione chi vi dà leggete se sono accettati i resi per esempio la consegna pulitice cos'è appunto alle 60 giorni se il prodotto voi non lo ricevete in 60 giorni lui vi rimborsa questo vi permette di dire che nel caso in cui lo compriate se in un mese in due mesi non vi è arrivato niente lui vi ridà tutto queste sono le informazioni del negozio quindi il resoconto che al negozio quanti articoli possiede in quanto sono artiste desideri il contatto il venditore il go to store allora cosa importante dovete leggere bene il riscontro vedete che questo è 0.0 io ce l'ho ma non comprerei per il semplice fatto che quelli che hanno ordinato non hanno lasciato i feedback io vi chiedo da persona che compra io lascio sempre i feedback vedete io li lascio qui nessuno ha lasciato feedback quindi uno non sa come regolarsi non sa se è un buon venditore o meno sicuramente non è male visto che scusate visto che in realtà ci sono 96,2 per cento su questo venditore quindi comunque un buon venditore però io non capisco perché la gente se fa ordini se ci fosse stato ordini zero volete che non era proprio stata cercata però non capisco perché se c'è non lasciare un feedback anche solo le stelle comunque vi faccio vedere se vedete qui vedete vi porta qui dove c'è tutto quello che ha il negoziante ok quindi la mia cosa principale è quella valutare gli ordini che sono stati fatti e il riscontro proviamo a vederne un'altra ecco per esempio questo qui qui vi dice proprio vedete ci sono anche più immagini se volete prezzo vi viene scontato ma solo sui mobile in quanti c'è una lista dei vederi gli ordini sono 565 e ha un buon riscontro perché 4,7 è un buonissimo riscontro vedete qui vi dice già che dovreste pagare la spedizione e io non è che sia proprio contenta ce l'ho lì ma molto probabilmente non lo comprerò mai perché praticamente mi costa di più la spedizione che l'oggetto stesso però vedete i feedback eccoli qua questi sono importanti per esempio questo qui italiano dice è più piccolo di quanto sembra la dimensione poco più grande di una mano vedete a volte sono utili proprio per capire realmente quanto sono grandi quindi se sono fatte bene se non sono fatte bene qui potete filtrare solo gli italiani quindi passate ve li leggo vi consiglio sempre di leggerli feedback poi oppure mettete in base alle stelle e così via anche qui vedete c'è tutta la descrizione e lui ha 96,7 assolutamente non è male vedete qui per esempio c'è scritto addirittura sconti di negozi ottieni 4,60 euro di sconto per ogni tot spesi sono alti ovviamente perché loro hanno dei prezzi bassi cioè loro cercano di tenere i prezzi molto bassi nei loro negozi quindi avere uno sconto ulteriore vuol dire che avete speso veramente tanto allora loro vi dicono noi vi diamo la possibilità di avere questo sconto in più ok allora quindi prima di tutto questo dovete vedere assolutamente ve lo faccio rivedere i feedback 4,9 4,7 5 5 bellissimo ovviamente dovete fare poi il confronto a quanti ordini vedete 161 ordini 5 buono vuol dire che è affidabilissimo perché se voi ne prendete con uno che ha effettuato un solo ordine e lui ne è stato dato 5 può essere che sia stata solo fortuna così come invece che sia un ottimo venditore allora lì vado a cercare per esempio vedete 53 ordini 4,8 allora piuttosto vado a vedere qua sotto com'è perché se hanno un basso resoconto non mi fido anche se hanno avuto un solo ordine ok vedete poi potete andare proprio su prodotti ribassati della vostra wishlist e lui vi fa vedere proprio quelli che sono stati abbassati rispetto al prezzo originario come fate a vederlo dal riquadro qua sotto con la freccia rossa che punta in giù ti dice che da quando io l'ho messo si è abbassato di 81 centesimi 4 centesimi e così via vediamo per esempio andiamo sul mio aliexpress ecco io ho delle notifiche adesso le rimuovo perché tanto non mi interessano vedete allora negozi preferiti qui potete tener conto di tutti i vostri negozi io al momento non ne ho liste dei desideri vi porta qui dove eravamo prima i miei coupon io ne ho vedete scaduti da una vita comunque questi sono i coupon che avevo vinto con aliexpress cioè era aliexpress che li aveva messi in a disposizione ecco magari facendo dei giochi vedete lui vi dava un tempo valido nel 25 agosto al 26 di agosto solo da cellulare leggete bene perché se è solo da cellulare potete usarlo solo se avete l'app altrimenti non potete usarlo poi e di quanto cioè di quanti quanto è lo sconto quindi in questo caso 2,76 euro per ordini superiori ai 23 euro no? poi vabbè io non li ho usati quindi potete mettere un codice se avete un codice invito o un coupon e poi ci sono invece i coupon di venditori anche qui sono tutti scaduti adesso li cancellerò sono i coupon che ti danno i venditori vedete per esempio per singoli ordini superiori agli 11 euro avete questo sconto per quel periodo però quindi non prima quindi se potete io li avevo presi ma poi non li ho mai usati inizio che poi non ho più fatto ordini i miei inviti vedete come invitare gli amici voi cliccate su invitare gli amici vi darà un codice ho voluto proprio vedere su come lo dovete condividere e poi lui invita poi questa è la schermata che voi dovete praticamente imparare a gestirvi al meglio perché nei messaggi è la parte dove voi comunicate con i venditori io ho dovuto comunicare in quanto purtroppo l'ultimo ordine che avevo fatto non mi era arrivato entro i termini di scadenza poi vi spiegherò bene come fare anche quello e quindi purtroppo ho dovuto contattarli affinché o mi rimborsavano o mi allungavano il tempo questa qui è la sezione più importante di tutta la vostra vita questi sono gli ordini che vi faccio vedere velocemente cosa avevo preso ecco vedete c'è la conferma in attesa di pagamento gli ordini in attesa di pagamento in attesa di conferma lascia un riscontro a spedizione e qui visualizza lo stato non confermato congelato cancellato spaziale ok gli ordini completati sono questi sono tutte le cose che mi sono arrivate per esempio questo aveva un id un tempo l'importo e tutto il resto vedete stato il promemoria la disputa è finita in quanto purtroppo come vedete ho lasciato 7 messaggi perché purtroppo ho dovuto aprire disputa in quanto non era arrivato entro i tempi stabiliti in quanto quando voi comprate ordinate qui dove c'è scritto stato e promemoria in realtà dovete scrivere cioè vi verrà un conto alla rovescia che vuol dire che hanno 60 giorni per arrivarvi i vostri oggetti ordinati se non arrivano voi potete fare su apri controversia io adesso ovviamente non la farò e lo contattate e la aprite poi vi spiego bene anche questo in lascia un riscontro voi lasciate un riscontro all'ordine quindi se l'ordine era corretto era coerente con quello che c'era scritto e tutto quindi lasciate i cosiddetti feedback importanti per gli altri gli ordini in attesa di spedizione sono quando voi li avete ordinati pagati e devono ancora essere spediti gli ordini in attesa di pagamento invece sono quelli che voi avete ordinato ma loro stanno aspettando la ricevuta di pagamento e l'ordine in attesa di conferma invece sono quelli che magari stanno viaggiando quindi sono già stati pagati sono già stati spediti stanno viaggiando e stanno aspettando che vi arrivano quindi voi dopo cliccherete qui quando vi arrivano e cliccate sulla conferma ok allora come vi ho detto questa sarà la vostra migliore amica vi faccio vedere per esempio me io sono un vabbè non ho messo foto il mio nome ma il reward è a 1 se voi cliccate qua ci sono varie classi vedete io ho ricevuto dei feedback positivi dai miei venditori dai venditori perché come voi lasciate feedback a loro loro possono lasciare feedback a voi loro mi hanno lasciato praticamente tutti dei feedback positivi perché io non gli ho creato problemi mettiamola così io quando ho iniziato a vedere che non mi arrivavano le cose ho iniziato a seguire il track vi farò poi vedere anche questa cosina questo piccolo trucco cosa ho fatto semplicemente li ho presi li ho contattati direttamente chiedendo loro se potevano allungarmi la copertura alcuni non mi hanno risposto purtroppo a me stava scadendo la cosa e quindi poi ho aperto disputa a questo punto loro ovviamente avendo avuto la disputa mi hanno contattata subito qualcuno mi ha allungato qualcuno ha detto no purtroppo i pacchi a noi risultano dispersi e quindi mi hanno rimborsato subitissimo senza neanche pensarci alcuni io gli ho fatto sapere che mi erano arrivati i pacchetti quelli che mi avevano allungato il tempo altri li ho fatto sapere ma non hanno mai voluto indietro i soldi per il semplice fatto che ormai era troppo complicato avrei dovuto comprare facendo risultare lo stesso prezzo era più complicato per loro e quindi ovviamente ho lasciato il tutto però questi questi sono i vostri livelli vedete il genere gli anni le categorie preferite dove spedire e così via e fin qui ok quindi innamoratevi della vostra schermata perché sarà quella vostra migliore amica ora vediamo un attimo se vi ho parlato di tutto il supporto online se avete bisogno le impostazioni ecco vi faccio vedere velocemente le impostazioni il paese la valuta la lingua ecco se volete usare i coupon i coupon spesso sono in vedete io ho messo euro quindi adesso sono in euro a volte ve li da scritti in dollari americani in questi qui USD US vuol dire che dovrete cambiare la valuta dargli USD US a quel punto lì voi potete andare nell'ordine a scalarli infatti adesso no adesso l'hanno aggiornata perché avevamo fatto notare questo problema che tutte le volte dobbiamo cambiare in realtà poi hanno sistemato questa cosa impostati infatti scusate hanno impostato infatti il convertito di valuta in modo tale che voi sapete più o meno quanto pagate di differenza vedete 1 dollaro è 0,92 euro circa poi vediamo un po' vi ho detto vi faccio vedere la disputa scusate mi sono un po' persa allora i miei ordini vi faccio vedere allora per esempio vi apro questo vedete a me è arrivata io ho aperto disputa disputa finished eccola qui allora io avevo l'ordine gli avevo detto se potevo avere il rimborso totale vedete le info disput disput info non ho mai ricevuto il pacco non vorrei mi fosse rinviato ma vorrei che mi venga allungata la protezione in quanto a me risulta in transito la data quanto avevo pagato e lui invece semplicemente mi ha detto ho trovato la soluzione a me risulta disperso ma proprio scritto e mi ha rimborsato completamente come vedete seller accept issue è scritto in alto sotto status questo è importante vi faccio vedere per esempio scusate sì mi sono un attimo persa questo qui è arrivato subito l'avevo ordinata per una mia amica non ho dovuto fare niente perfetto preciso è arrivato questi qui mi sono arrivati perché io adesso non posso aprire controversia ma ho fatto sapere che mi erano arrivati perché l'ho contattato e lui mi ha detto che mi avrebbe allungato la protezione e così infatti è stato anche qui per esempio disputa finita ho messo i stessi dati di quell'altro perché era la stessa cosa e lui mi ha rimborsato senza neanche pensarci sono stati molto carini tutti mi hanno risposto mi hanno addirittura proprio scritto facendomi sapere che mi stavano rimborsando tutti assolutamente cordiali sappiate se voi siete cordiali con loro loro saranno con voi molto probabilmente non arrabbiatevi subito perché magari è colpa delle poste vedete io gli avevo scritto purtroppo avevo avuto dei problemi anche perché mi era andata in crisi l'app era periodo di saldi era andata in crisi l'app addirittura nei dettagli dell'ordine aspettate ecco qui era la mia qui c'era le informazioni circa la consegna vi fa sapere tutto il problema è che a me non risultavano alcuni pezzi questo pezzo lo taglio non mi risultavano dati il cognome il cap in realtà c'era tutto sui pacchetti ma giustamente a me non risultava e quindi io ho contattato i venditori subito senza neanche pensarci quindi se volete evitare problemi di dispute il consiglio è valutate come vi ho fatto vedere qui vedete in questo caso non è più disponibile vabbè vi faccio vedere questo valutate il riscontro e quanti ordini sono stati fatti andate a vedere i commenti perché se già i commenti comunque non sono super positivi forse forse è meglio la sasta poi guardate anche il venditore quanti riscontri ha vedete cioè è molto importante questo altrimenti rischiate veramente di fare un flop cioè di comprare cose che non vi arriveranno mai è un po' come ebay ecco è un po' come ebay possiamo metterla così benissimo adesso vi faccio vedere invece un'altra cosina carina allora vado nelle mie applicazioni e vado a cercare questa app 17 track 17 track perché con questa app voi potete tracciare gli ordini allora vedete eccoli qua per esempio questi sono i miei ordini questi qui sotto se sono solo numeri come vedete gli ultimi due che sono solo numeri non ve li traccerà mai perché solo numeri è posta semplice quindi è difficile sapere dove invece le lettere davanti come questa qui quest'altra più in alto e quest'altra sopra vanno a identificare il fatto che sono delle raccomandate e quindi sono un po' più facilmente tracciabili per esempio se qualcuno di voi usa wish wish le traccia però a volte si perdono perché magari non viene aggiornata perché magari c'è qualche problema e quindi voi siete ansiosi di sapere dov'è e non potete sapere dov'è vedete qui anche qui la scansione del QR code oppure glielo potete inserire voi qui potete aprire il menu andare a vedere se avete bisogno di contattarli qui quando posso adesso poi li cancellerò perché tanto li ho già sistemati per esempio vi faccio vedere questo ordine adesso io poi lo copierò scusate allora vedete vi fa vedere quando è partito ovviamente è scritto tutto in cinese quindi non capisco una mazza ma lui mi dice che era partito perché ci sono i primi pallini tutto questo era in viaggio con la china post e poi è stato preso da poste italiane e poi gli ho fatto sapere che era stato consegnato guardiamo questo per esempio questo per esempio ecco qui è scritto in italiano vi dice che era stato accettato era partito si trovava in volo e poi paese di destinazione in Italia però purtroppo a volte non sa dirvi molto altro l'app nel senso che purtroppo alcune volte è proprio rintracciabile il pacco ma quello è anche colpa delle poste italiane perché come avete visto questo qui che mi è arrivato ma mi sono arrivati tutti ma in realtà non c'erano problemi questo qui che mi dice destinazione in Italia in realtà per loro le poste italiane non l'hanno mai preso in mano perché voi dovete fare qui e inserire letter numeri numero filtro traccia e lui vi dice ve lo traccia vi traccia il pacco per esempio adesso vado a prenderne uno vecchio dei miei che tanto so già essere arrivato cerchiamo per esempio questo qui se non mi sbaglio no questa era una cosa normale ecco per esempio vado qui lo incollo gli dico tracciamelo ecco è lo stesso di prima ma lui ve lo traccia quando risulta essere in Italia lui il Seventy Truck non riesce più a tracciarvelo più di tanto vi dice solo che è già in Italia allora cosa potete fare a questo punto se per voi è già in Italia andate su poste italiane ogni tanto va in crisi poste italiane forse ce la fa ma solo quando vi risulta in Italia qui dove c'è cerca una spedizione glielo mettete dentro e li date in cerca sempre se non vai in crisi esistenziale come ogni tanto fa il mio vedete in questo caso mi dice prodotto non registrato anche perché ormai non ce l'hanno più in mano loro mi è già arrivato in mano a me nel caso in cui vi dice prodotto non registrato non spaventatevi perché i miei risultavano non registrati neanche presi in mano risultavano in Italia ma neanche presi in mano altri invece neanche in Italia in realtà mi sono arrivati tutti quindi poste 70 track non è perfetto nel senso che non c'è niente di perfetto soprattutto solo le lettere solo numeri le lettere invece sono già più tracciabili infatti a me risultavano i pacchi in Italia ma risultava che probabilmente poste italiane non aveva neanche aggiornato non aveva messo niente praticamente risultava disperso quindi comunque se potete lui ve lo traccia vi dice dov'è se è a Roma se è a Milano in base a dove siete vi fa sapere dove è arrivato finalmente il pacco queste sono le cose che io vi posso dire per cui non so cos'altro dirvi se avete altri dubbi esistenziali scrivetemeli sotto nel commento di questo video io cercherò di accontentarvi cercherò di farvi sapere in fretta di darvi una risposta il più velocemente possibile e niente per qualsiasi dubbio potete scrivermi sotto se è una cosa molto lunga comunque nell'infobox io lascio i contatti della mia pagina facebook della mia instagram quindi potete scrivermi in direct oppure della mia mail potete scrivermi via mail una bellissima mail io vi risponderò il più in fretta possibile tenete conto che vado in università ma cercherò di rispondervi in modo tale da accontentarvi va bene alla prossima